Flop delle manifestazioni, no Green Pass nelle stazioni campane e il giorno dopo prosegue l'obbligo della certificazione negli scali per i viaggi a lunga percorrenza. Vediamo proprio cosa ne pensano i viaggiatori. Green Pass è una cosa utile, ci vuole? Per me è fondamentale, oltre che viaggio tantissimo, però è fondamentale anche per risolvere questo problema nazionale. È sempre una cosa buona se funziona, voglio dire. Ho fatto tutte e due le dose, mi hanno dato il Green Pass, rispetto le regole, sperando che va bene. Mi spiace che per quelle che sono state poi le dinamiche all'inizio è stato visto come un elemento di costrizione verso le persone, non come una tutela alla nostra salute. È un ottimo strumento per viaggiare in sicurezza, consente di essere più liberi. Cosa ne pensa delle manifestazioni che però sono state un flop in tutta Italia, dei no Vax e dei no Green Pass? Meno male, sono contento che sia stato un flop, lo deve essere sempre di più perché non ha senso. Se uno vuole fare il no Vax, sta su una montagna a guardare le pecore, lo può fare da solo. Io credo che chi si espone per una battaglia è giusto che la prosegua, magari se hanno iniziato e non è stata continuata è perché non ci hanno creduto fino in fondo, altrimenti erano in piazza a manifestare. Si vede che anche a loro in realtà fa comodo. Queste persone, come anche i no Vax, sono un po' troppo, secondo me, aggressive nelle loro idee. Nel senso, non sei d'accordo col Green Pass, però comunque non puoi attaccare chi è il Green Pass, chi è vaccinato. Con i la vita, chi è vaccinato, chi è vaccinato. Già un'ordine. Non subscribe Ciao è guards. Usstipatissare.